Le truffe agli anziani sono un fenomeno che si stanno delegando un po' in tutto il territorio. Come e cosa fare per difendersi? È un delitto che ha trovato applicazione in più regioni del nord-est, che nella nostra provincia non è così preoccupante come si possa pensare, ma comunque è presente. I consigli che dà l'arma dei carabinieri è quello di difidare sempre del poliziotto, del finanziere, del carabiniere che si presentano nelle case degli anziani chiedendo di controllare dei soldi oppure che chiamano per dire che il figlio è stato un parente coinvolto in un incidente e che gli anziani per risolvere devono dare delle somme di danaro. Non è vero, difidate sempre di chiunque chieda dei soldi, perché nel diritto italiano questa possibilità non è prevista anche poi per permettere alle persone di essere rilasciate dalle caserme. Nei casi di incertezza chiamate sempre il 112, chiamate sempre i carabinieri che vi diranno effettivamente se c'è del personale in borghese che sta eseguendo dei controlli. Però prima di quel momento non aprite a nessuno. Grazie a tutti.